buongiorno amici del vostro pazzo 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 buongiorno buona mercoledì a tutti 16 maggio allora ragazzuoli tra vedute la notizia che Gianluigi buffona domani darà una conferenza stampa vediamo quello che vorrà il mio piccolissimo messimissimo sogno è un sogno accantonato che direbbe che magari venirebbe un altro anno in bianco magari un altro anno per provare a vincere quella santa coppa dei campioni oppure dire alla dia a calcio comunque sempre ho sannato il Gigi grande Gigi buffon numero uno il portiere sempre più forte delle storie del mondo non ce ne saranno altri portieri più forti di lui sicuramente non è donna rumba anzi chiamiamolo papà rumba pure tutte cose papà rumba papà ramma papà del padre del padre non è Gigi ma è sempre pure io la mia volta l'avevo accantonato come Gigi buffon ma di buffon ce n'è uno solo comunque poi un'altra news hanno lasciato già la Juventus a giugno se ne andavano già l'Iksteiner e soprattutto mi dispiace per l'Iksteiner che era un terzi non so svesse il treno troppo fortissimo e lasciare l'Iksteiner dopo sei anni anche il ghanese a Samoa e va purtroppo ai prescritti questa decisione non mi è piaciuta niente e se ne andrebbe proprio prescritti vediamo cosa faranno la coppa padre dici morà 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 ti ma bella dicono che il retone era morato non lo so febbraio il retone era morato speriamo che non se ne fata guarda l'Ikwain vediamo cosa faranno Ikwain ne di Bara ne di Sandro se ne devono andare e ne di Dovus Costa ne che di Bara questi qua non se ne dovrebbero andare proprio speriamo vediamo grazie a tutti